Buongiorno e benvenuti in Teniamoci Compagnia, saremo insieme fino a mezzogiorno come sempre con tanti temi, con il dibattito, l'attualità e quello che riguarda la nostra città, poi sapete anche che noi facciamo delle piccole incursioni chiaramente anche in quello che è lo scenario italiano, internazionale, sempre in rapporto a quello che viviamo tutti i giorni nella nostra città e nella nostra città il prossimo 12 giugno si terranno le prossime elezioni amministrative, come sapete ospitiamo le presentazioni per quello che riguarda i candidati e questa mattina partiamo proprio così, saluto e ringrazio i miei ospiti, Patrizia Arighetti che è candidata per Vince Genova, municipio Levante a sostegno di Marco Bucci, sindaco, la saluto e la ringrazio, buongiorno. Grazie a voi. E buongiorno a Pierpaolo, Rosso di Vita, candidato per l'Istasanza Europa Verde Linea, condivisa al Consiglio Comunale a sostegno di Ariel, dell'astrologo sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Dunque, io parto da Patrizia Arighetti che è stata già assessore in municipio Levante, le chiedo un po' della sua esperienza, lei si è occupata, Patrizia, di sociale, di pari opportunità, di scuola, dei temi molto importanti sul territorio, che anni sono stati? Devo dire che l'esperienza in municipio per me è stata un'esperienza veramente di formazione, della quale ne esco soddisfatta e per questo motivo cerco di ripropormi, sperando che l'operato che ho fatto venga tenuto presente. Io, come ha già detto la dottoressa, sono assessore in municipio da 5 anni, avevo già fatto due anni di esperienza nel mandato precedente, dal 2012 al 2017, subentrando a un consigliere comunale e avendo fatto quindi già due anni di consigliere comunale. Per me l'importanza del sociale e degli individui come persone uniche è uno dei punti che intendo sostenere e accolgo sempre chi mi chiede aiuto, anche proprio venendo a parlare in un municipio dove io trascorro parecchie ore, ascoltando i loro problemi e poi magari cercando di indirizzarli verso enti competenti che possano aiutarli a risolvere. Uno dei primi progetti che ho portato avanti è stato quello del social market la Cambusa. Si tratta di un emporio, chiamiamolo, dove le persone con possibilità ridotte possono andare a fare acquisti dei loro prodotti gratuitamente. Dico acquisti perché il sistema è proprio un sistema d'acquisto, non è la borsina preconfezionata che ti danno in tanti altri enti, in tante altre associazioni di beneficenza. Alla Cambusa c'è proprio la volontà e la voglia da parte delle volontarie di interscambiarsi con queste persone quindi questi utenti hanno una scheda punti dove ci sono segnati i punteggi rispetto al nucleo familiare alle esigenze della famiglia, se hanno disabili, se hanno persone con particolari difficoltà e chi entra in Cambusa acquista perché va a scegliere sugli scaffali quelli che sono gli articoli che in quel momento la famiglia ha bisogno, per cui la cosa diventa a livello molto più umano. Durante il lockdown il numero delle famiglie si era addoppiato perché anche persone che normalmente andavano avanti si sono trovate ad avere serie difficoltà anche per l'approvvigionamento del cibo. Parallelamente è nata l'esigenza, richiesta proprio dalle famiglie, di avere anche un supporto nell'abbigliamento, nei vestiti, perché a marzo c'è stato il cambio degli armadi, quindi le famiglie si sono trovate con i bambini che non avevano le scarpe, le giacche, i vestiti. Allora con molta fatica però ce l'ho fatta sono riuscita a ottenere un locale istituzionale e l'abbiamo dedicato proprio alla distribuzione di tutto quello che non è genere alimentare. Ottimo Patrizia, io la fermo soltanto su questo primo punto, poi continuiamo sicuramente a raccontare questo territorio dal punto di vista sociale, poi insomma lei sfonda una porta aperta importantissimo per la nostra linea editoriale. Vado però per un attimo con Pierpaolo Rosso di Vita, che è un ingegnere nucleare che si occupa attivamente di energia, che è un tema molto attuale, e gli chiedo come si può investire in città in questo settore, visto che lei è esperto di ciò. Il ruolo dell'energia, soprattutto a seguito delle vicende ultime, è diventato ancora più pressante, perché vi sono dei fenomeni particolarmente rilevanti a livello sociale, come per esempio quello della povertà energetica, esiste una quota di famiglie che oramai non ha più risorse sufficienti per climatizzare adeguatamente le proprie abitazioni. Diciamo che questo deriva da logiche di mercato che in qualche maniera il singolo cittadino difficilmente riesce a governare, però esistono dei metodi, ad esempio quello delle comunità energetiche, ossia delle associazioni di cittadini che possono realizzare degli impianti per autoprodurre e autoconsumare energia, con vantaggi non solo dal punto di vista economico, perché il costo dell'energia a questo punto si svincola dalle logiche di mercato e soprattutto si riduce in maniera significativa, si può ridurre dal 30 al 50%, che è una quota abbastanza rilevante, ma la cosa importante è che se si diffonde ad esempio la logica delle comunità energetiche, Genova avrà bisogno di 10, 100, 1000 impianti che rappresentano il lavoro per le nostre imprese, aumentano le commesse, aumenta l'occupazione. Questo è un modo di mettere in rete le esigenze degli attori cittadini, trasformare i problemi in opportunità e in questo io ritengo che il comune abbia un ruolo fondamentale, perché è l'ente che meglio di altri conosce il territorio, ne conosce le esigenze e meglio degli altri è in grado di capire come si possono combinare queste esigenze e chi deve mettere attorno al tavolo per fare in modo che questo progetto si sviluppi, comunità energetiche da una parte, imprese dall'altra, banche che in qualche modo devono contribuire prestando i soldi per realizzare questi impianti. Ora questo è un esempio, ve ne sono altri, ad esempio si può parlare di come combattere la fuga dei nostri giovani dalla città cercando di far ripartire la grande industria del settore energetico, la conversione green richiederà grandi quantitativi di componenti, pannelli fotovoltaici, eolici, forse è il caso che anziché andarli a comprare dagli svedesi per quanto riguarda gli eolici, oppure dai cinesi o giapponesi per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, noi abbiamo un'industria che faceva questi mestieri, abbiamo una fincantieri che è in grado di realizzare opere a mano. Quindi lei dice, insomma, andiamo a prendere sul territorio quello che è la tradizione industriale. Andiamo, riportiamo la grande industria nella nostra città che farà in modo per cui i nostri giovani non dovranno più scappare perché il lavoro di qualità lo trovano in città. Andiamo su Patrizia Arighetti sulla questione, sulle questioni insomma che ci stava esponendo del municipio Levante, lei si è occupata anche di scuola, di pari opportunità e temi che peraltro riguardano chiaramente tutta la città, ma come li ha declinati sul territorio? La scuola per me ha un'importanza primaria anche perché il mio passato è quello di ex insegnante, quindi ho sempre avuto un occhio di riguardo verso le scuole. Il primo passo che ho fatto per le scuole è stato quello della realizzazione di un tappeto antitrauma in una scuola di periferia. Questi bimbi non avevano dove giocare, non avevano spazi aperti sicuri e insieme a Damio abbiamo realizzato questo tappeto con il materiale di risulta delle scarpe da tennis, quindi è stato veramente un successo che poi abbiamo replicato grazie alla collaborazione di Coop Liguria su un altro giardino in via del commercio come onore di urbanizzazione di Coop che aveva aperto un altro punto vendita appunto su Nervi. Con le scuole una cosa che ho portato avanti e che purtroppo poi ho dovuto interrompere con il Covid è stata quella dell'istituzione del consiglio dei ragazzi e delle ragazze. Ne sentivo parlare giusto due sere fa proprio da una collega che diceva che sarebbe molto bello portare questi ragazzi all'interno del municipio, delle istituzioni per fargli capire. Questo consiglio è stato proprio costituito identico a quello che è il consiglio municipale, è stato eletto un presidente, sono stati eletti i consiglieri e i ragazzi hanno proposto tematiche relative all'ambiente, al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, a tematiche sociali. Poi tutto questo avrebbe dovuto essere raccolto insieme agli insegnanti e diventare un unico progetto da presentare al municipio che avrebbe cercato comunque di portarlo avanti. C'è stato il Covid e che siamo interrotti. Da questo punto di vista ha affermato molte buone iniziative. Rosso di Vita, prima mi lanciava uno stimolo interessante rispetto alla tradizione industriale di Genova, si è tentato, e si tenta ancora, diciamo con discreto successo di puntare sul turismo nella nostra città. Secondo lei a percentuale 10 invece quanto bisognerebbe ritornare a puntare sull'industria, tra i due? Sicuramente aver scoperto una vena turistica della nostra città è utile, perché significa aver portato una nuova attività che genera poi posti di lavoro e ricchezza, porta ricchezza nella nostra città. Però abbiamo visto che in questi anni il solo turismo non è riuscito ad invertire quella fase di declino che oramai ci portiamo avanti da 30 anni e che nasce dalla morte della grande industria di Stato, fase di declino che si misura dalla riduzione della popolazione, dall'invecchiamento, dalla fuga dei nostri giovani perché non trovano lavoro. Quindi il turismo è un elemento importante che va sicuramente confermato e rafforzato, ma non basta. Oggigiorno bisogna che a Genova si rilanci la grande industria, quella che una volta era l'elemento forte dell'economia genovese. Io quando mi sono laureato e ho cominciato a cercare lavoro agli inizi degli anni Ottanta facevo parte di una schiera di tecnici, di ingegneri che normalmente mandavano sicuramente una domanda di lavoro all'Ansaldo, alla Nira. Per riportare i giovani o per evitare che fuggano bisogna ricreare una condizione di questo genere. Noi abbiamo le competenze per far ripartire la grande industria, noi abbiamo la Fincantieri che sa lavorare per interventi a mare. Oggigiorno per esempio una delle soluzioni dal punto di vista energetico è quella degli impianti eolici a mare. Questo che cosa significa? Che la Fincantieri può fare ad esempio una joint venture con la Bestas svedese e realizzare insieme questi componenti. E questa è una proposta. Io, ahimè, insomma, complice il tempo tiranno, devo tornare a presentarvi e a chiudere. Vi ringrazio di essere stati qui con me. Grazie a Patrizia Arrighetti, candidata Vince Genova per Municipio Levante, grazie. E grazie per Paolo Rosso di Vita, candidato Lista Sansa Europa Verde, linea condivisa, consiglio comunale a sostegno di Ariel Dell'Ostrologo. Grazie a voi. Grazie infinite. Noi conteniamoci compagnia, torniamo tra pochissimo.